Ciao, sono Max. Lavoro in pubblicità. Per la precisione sono un regista pubblicitario. Max Carlyle, piacere. Ho sentito dire che è un genio. Prima lavoravo con un mio amico, Charlie. Charlie è uno sessuale e si ero positivo. Per andare va. Non succede niente ancora. E niente può succedere. Comunque sia, io vivo a Los Angeles, lui vive qui a New York e lo considero ancora il mio amico più caro. Ma a volte ci vuole qualcuno che conosci da sempre. Sai Max, sono preoccupato per te. Per ricordarti chi eri. Non mi sembri felice e tu meriti di essere felice. Lei ha perfino il cuore, Nero. Forse per la penna. Vuole metterci questa? Sì, grazie. Queste stilografiche. E qualcuno che hai appena conosciuto. Lo sai Max, adoro la musica classica. Sì. Per farti vedere chi potresti essere. Adoro questa canzone. Vieni da Los Angeles? Ce l'ho scritto in faccia, non lo so. Wesley Snipes, Nastasja Kinski, Robert Downey Jr., Mingna Weng e Kyle McLaughlin. Mi piace come mi sono vestita. Dal regista Mike Figgis. Sì. A volte, un'intera vita può cambiare. La vita è qui. Alla vita. Alla vita. Alla vita. Allala. Grazie.